...che collaborano con me, eccoli qua, qui c'è la televisione danese, lui è, non so, è una piccola televisione che seguiva, seguiva Brunetta, allora è il discorso, va bene, è una battuta, sono un comico, io non vorrei fare il comico, chi sono io, un ex comico, allora, siamo una comunità, ci aiutiamo uno con l'altro, lui è Salvatore, ci sta mandando in streaming, sta mandando il nostro spettacolo in streaming, in tutto il mondo, in questo...